Qualche minuto fa vi ho parlato di prove generali, perché lo spettacolo di Cantona prende vita il 25 gennaio del 1995. In realtà non è uno spettacolo, è un gesto ignobile, ma per contrappasso è il primo risultato che YouTube ci offre se cerchiamo il suo nome. È il momento che tutti ricordano e che nell'immaginario collettivo lega Cantona al suo essere disruptive. Ma non è così. O forse non è solo così. Quello che fa è parte del pacchetto e la punta dell'iceberg, è solo una componente del suo essere disruptive. Ma torniamo a noi. Quel giorno il Manchester affronta il Crystal Palace, la partita è tesa, nervosa. In tribuna c'è anche Massimo Moratti. Eric è marcato da Richard Shaw, un difensore che non gli lascia tregua per tutto il primo tempo, riempiendolo di calci e facendo sentire il fisico per utilizzare un gergo calcistico. Tre minuti dopo l'inizio della ripresa, Cantona che si era ripetutamente lamentato con l'arbitro Alan Wilkie. Per liberarsi dalla marcatura opprimente sferra un calcio al suo marcatore. Il direttore di gara a quel punto non indugia, rosso diretto. Eric abbassa lo sguardo e lentamente esce sotto gli occhi vigili di Wilkie e quelli rassegnati di Ferguson. Si dirige lentamente verso gli spogliatoi, ma di colpo, come un fulmine a ciel sereno, corre verso gli spalti, prende la rincorsa e, come nei migliori film di Bruce Lee, sferra un calcio poderoso sul petto di un foso che era sceso di dieci gradinate per insultarlo. Anni dopo si scoprirà che Matthew Simmons, il tifoso colpito, era un estremista di destra che poco tempo prima aveva addirittura rapinato una pompa di benzina e percosso con una mazza all'inserviente dello Sri Lanka. Ma questa è una giustificazione esposta. Quel gesto non ha alcun valore politico in quel momento. È lo stesso Eric a confessarlo. La gente ti dice cose del genere un milione di volte e un giorno improvvisamente non le accetti più. Perché? Non si tratta di quelle parole in particolare. Si tratta di una sensazione che provi in quel momento. Reagisci in un giorno preciso, ma le parole sono le stesse che hai sentito milioni di volte. E quindi è impossibile prevedere quando uno possa reagire. Grazie. Grazie a tutti.